No, non è questo il segno. Il segno è che abbiamo trovato davanti una squadra che è molto qualitativa, che in un fazzoletto sanno andarti a giocare con tecnica, con precisione. Se ribaltiamo le due azioni che abbiamo fatto noi sull'1-0, come è passata in vantaggio la Roma, è subito dopo quella che abbiamo avuto noi, con Vasquez e poi con Illiamark nell'ultimo passaggio per Rigoni. Vediamo che abbiamo sbagliato noi l'ultimo passaggio, abbiamo sbagliato la conclusione finale, mentre la Roma ha avuto la bravura di andare a giocare sul metro con un 1-2 veramente sul primo gol di altissima abilità, di altissima qualità tecnica. Quindi questi ci sono anche gli avversari nel calcio come nel terzo gol di Gervinio. Non è che sicuramente ha fatto una grandissima giocata il singolo giocatore, potevi prestare un attimino, sì, se vogliamo un po' più di attenzione, ma quando trovi giocatori in serie di queste qualità è normale che puoi anche fare ben poco. Diciamo, noi siamo rammaricati perché nel momento in cui noi abbiamo avuto opportunità di andare a reagire nella maniera giusta e abbiamo avuto le opportunità per mettere la palla dentro, sicuramente sul piano psicologico il fatto di poter pareggiare la partita in quel momento sarebbe stato importante.